Anastasia conti i soldini che è arrivata la fatina Esatto, quindi stanotte è arrivata la fatina e li abbiamo trovati dove? Sì, è sotto il cuscino Esatto Sotto il cuscino È vero Quanti soldini ti ha portato la fatina? Tanti Dì ai tuoi amici che hai perso un dentino sabato e uno ieri che era mercoledì, vero? Fai vedere il sorriso? Bellissimo, amore mio